un minuto con padre pio dal convento dei frati minori cappuccini di sant'anna che in questo periodo particolare stiamo vivendo un po tutti della quarantena ci sta accogliendo come accolse padre pio nel 1916 proprio in questo luogo chissà quante volte padre pio è stato qui in questa piccola cappella la cappella interna questa una volta era clausura la sua cella dove più volte siamo stati anche nelle scorse giornate per raccontarvi la storia di padre pio quello che accadeva proprio in quei mesi qui oggi vogliamo ricordare tutti noi in questa giornata il 14 maggio del 1963 venne a mancare una figura importante che ha un po caratterizzato la storia di padre pio parliamo di padre agostino da san marco in lamis e lo vogliamo ricordare perché lui è stato un pilastro della vita dell'allora giovane frate minore cappuccino suo compagno suo compagno di vita il suo direttore spirituale ecco padre agostino morì nel convento dei frati minori cappuccini di san giovanni rotondo studio teologia a san miniato in toscana dal 1900 al 1904 e venne ordinato sacerdote il 15 marzo del 1903 più volte superiore in vari conventi per 24 anni fu consigliere provinciale per 9 fu ministro provinciale per quattro volte prese parte come delegato al capitolo generale dell'ordine dei frati minori cappuccini dal mese di dicembre del 1944 al mese di giugno del 1952 padre agostino fu superiore del convento di san giovanni rotondo dove poi dimorò dal 1959 fino alla sua morte fu il direttore di padre pio da pietrelcina del quale ha lasciato preziose testimonianze scritte testimonianze che vennero custodise gelosamente da padre agostino unitamente alle tante lettere che lui scrisse con ricevette da padre pio da pietrelcina e tanti altri documenti in una piccola cassetta che egli aveva sempre con sé raccontano i frati minori cappuccini furono trovati dopo la sua morte nella sua cella a san giovanni rotondo il diario di padre agostino è fondamentale anche per i nostri racconti del minuto con padre pio perché anche lui aveva cominciato a scrivere quello che accadeva giorno per giorno nella vita di padre pio da pietrelcina questo diario in realtà erano quattro manoscritti che lui ha redatto nel corso degli anni e grazie alle sue storie ai suoi aneddoti ai suoi racconti noi possiamo anche oggi raccontare la vita di padre pio giorno per giorno